Mettiamo corrente Mettiamo cavalli 5 1 Vai Extra 4 più 70 Extra 5 lunga piena In sinistra destra Piena 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 Per rail sinistra 3 3 è quella che è 6 diviso 2 40 Destra 4 più piena In sinistra 5 lunga In destra 3 più Per sinistra 4 Porta dentro Infila la 30 5 in sinistra 3 dentro Frena che ho paura In destra 4 più lunga piena Ci viene nudo 80 Destra 3 più 30 Ritarda destra 3 pieni In tornante sinistro Tornante è quello che ho Significa ritarda E tu che ti è riformato Ti è ritardato De sinistra 4 in destra 4 30 Però è il mio bravo E' il mio bravo per la madre Tu chi si sa fare Sinistra 3 più Fin Tornante dentro 50 Ah Minchia pure la prima Anniversale Sinistra 3 meno 30 Sinistra 4 In destra 4 più lunga Apre 30 Stiamo volando Sinistra 4 meno Tutta quinta e sesta In destra In sinistra 4 dentro Destra 2 Che di 6 se staccai 30 Sinistra 3 più corta Parla a scorrere verso il grisello Però non c'è un po' vicino 5 in destra 6 Che che pavola Settanta destri Alla pompa fa il pieno Per sinistra 5 meno lunga Sinistra 3 Qui c'è La prima arma Per destra 4 dentro Dentro La buona c'è Per destra 4 meno meno lunga 50 Sinistra 4 Tieni di dalla vaniglia In destra 3 più Per In destra 4 meno Esci forte 30 Ma io mi scanto Destra 4 più piena 50 sinistri Sinistra 5 piena Saluta saluta 70 Settanta Sinistra 5 In destra 6 Ah 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 ma c'è 30 Re in destra 4 più Per Sinistra 6 Lo sai che sto andando più forte di poco fa 40 Cos'è se è un pezzo in mezzo Sinistra 5 lunga piena 50 Scicano ingresso sinistra Rapide Rapide Sinistra 4 Di chiare Seguine Nesce scicando Destra 4 meno piena Ciao Bravo Continua 5 Continua 5 Non c'è una mano più ora 50 Sinistra 5 Mossa 150 Scicano ingresso destra Che bello Frisco il caso Sinistra 3 più Più A saperlo La passavo di più Il finestrino Mi fermo Rapide Si aspetta 3 più Più In ritardo a moto Sinistra 4 piena 70 Piena piena Sivio destra 2 70 Almeno facciamo 10 Sivio destra 2 più Continua 5 In sinistra 3 Diventa 2 Perché siamo sotto di un minuto Dai 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 Meno 50 D� Abbiamo Hm Abbiamo 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 Grazie a tutti.